Il 4 novembre a Palazzo Lascaris, in occasione della commemorazione prevista nella seduta del Consiglio regionale, sarà presentata alla mostra Un fiume di ricordi, l'alluvione del 4, 5 e 6 novembre 1994, nelle foto di allora. Promossa dall'Assemblea legislativa in collaborazione con ARPA Piemonte, la rassegna fotografica sul drammatico evento viene poi allestita ad Alba, in provincia di Cuneo, dal 5 all'8 novembre e successivamente sarà a disposizione per essere esposta dai comuni colpiti dall'evento alluvionale.